Ciao ragazzi, quello che state per vedere è il finale segreto di Hogwarts Legacy Ma non solo, perché vi metterò anche un finale alternativo al nostro Che cosa sarebbe successo se avessimo scelto di tenere per noi il potere magico? Guardate e vedrete anche il finale della storia di Sebastian E vi ricordo che ci vediamo domani in live sul canale Viola Non mio, ma di Playstation Per fare le missioni di Poppy e Nati e scoprire tutti i segreti Ma ve l'avrò detto 200.000 volte nel video Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto e fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate Grazie a tutti per il supporto, vi lascio al video Salve a tutti ragazzi e bentornati da MyShowsha Siamo tornati con Hogwarts Legacy Forse per l'ultima volta non è ancora finita Perché siamo stati chiamati dalla professoressa Weasley Nella sua aula per poter parlare Molto probabilmente avremo gli esami, i gufo di Hogwarts E io mi sono vestito di tutto punto pronto per attendere a questa grande chiamata Ma non prima di aver concluso la quest di Sebastian Ora nel momento in cui voi vedrete questo video Non so se avremmo già fatto una live dove siamo andati a completare A scoprire le altre questline dei nostri companion Quindi Poppy e soprattutto Natty che avrebbe dovuto sconfiggere Immagino Arlo, chissà adesso come saranno cambiati i rapporti di forza Adesso che il Rootbook non c'è più Nel caso troverete il video sul secondo canale MyShowsha Live Quindi trovate comunque tutto, non vi perderete niente In caso invece non l'abbiamo ancora fatto lo faremo presto, ok? Così come tante altre missioni secondarie Io penso, arrivati a oltre 30 ore di gioco E avendo sbloccato un bel po' Di essermelo goduto alla grande È stato veramente un grandissimo gioco Magari mentre giochiamo vi vado a dire anche la mia Che è una cosa che non mi capita mai di fare Allora però prima di andare da Sebastian Visto che ci siamo andiamo nella... Ah sta proprio nel suo ufficio, ok Vediamo che cosa ci vuol dire Secondo me... Dice Hogwarts sarebbe stata persa senza di te Ah lo vuoi di forte prof Lo vuoi dire forte E per... Eh, bene io rubo un arbitro Allora, prof Professoressa Weasley Voleva vedermi? Sì, non abbiamo ancora avuto occasione di parlare da... So che ci tenevi molto al professor Fig Hogwarts non sarà la stessa senza di lui Già Concordo Ma ti assicuro che vorrebbe che continuassimo So che riposerai in pace Sapendo che il destino del mondo magico È in mano a una persona come te Grazie professoressa Hai avuto un anno pieno Fuori e dentro Hogwarts Ho sentito molte voci su di te Che hai cavalcato un Grapporn Fatto amicizia con un Goblin Salvato degli Ippogrifi Perché sei perfino entrato nelle grazie Della caccia dei senza testa Come fa a saperlo? Qui in giro mantenere un segreto è più difficile di quanto si pensi Non c'è bisogno di parlarne ulteriormente Parliamo invece della tua guida pratica alla magia Posso vederla? Certo Oh no 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 Io l'ho completata in maniera graziosa Cioè professore guarda bene Perché mi sono impegnato Poi tante cose erano veramente Troppo tipo Gli enigmi di Merlino Quelli sono veramente tanti È il motivo per cui non platinerò questo gioco Che cosa ne pensa professoressa? Ti sei dato da fare quest'anno Vedo indubbiamente dei progressi Ma gran parte della guida pratica è ancora da completare Fortunatamente hai ancora tempo per prepararti per i gufo Sappi che ho avuto un presentimento su di te Dal primo momento in cui sei arrivato di corsa In ritardo allo smistamento Sono felice che il mio sesto senso avesse ragione E pensare che sei qui con noi da solo un anno E stai già affrontando i gufo I tuoi progressi sono stupefacenti Grazie professoressa Per tutto Il piacere è mio Davvero Non vedo l'ora di assistere a quello che farai nei prossimi tempi qui con noi Io spero Che Oh dove vai però Che ci sarà un Hogwarts Legacy 2 E quindi Ripartiamo dal sesto anno Certo Tanta della magia Tanto dello stupore Che ha accompagnato questo gioco Magari sarà avvenuto meno Visto che Ormai la scuola la conosciamo Cioè Io credo che la grandezza di questo gioco Sia stata proprio avere Hogwarts Ok Cara professoressa Weasley La ringrazio infinitamente per il suo gufo Sono davvero felice di apprendere che fra i nuovi studenti del settimo anno Ve ne potrebbero essere alcuni Portati interessati a una carriera nel ministero Ovviamente i loro gufo confermeranno Smentiranno la loro idoneità Ma la sua opinione è altrettanto fondamentale per il nostro processo di reclutamento Ah quindi bisogna Lecchinarsi la Weasley per fare domanda al ministero Che dobbiamo fare? Ci ha detto Sì sì preparati eh La coppa delle case Il livello richiesto 34 Deve andare al banchetto di fine anno Ah e finisce così? Completa la guida pratica alla magia No è impossibile Pagine della guida pratica Che vuol dire ragazzi? Ah progresso generale 57% Cioè devo finire tutto? Cioè è una tryhardata clamorosa No forse credo che bisogna arrivare al livello 34 Che non credo sia molto distante Ah no due livelli Vabbè si grinda si grinda Vabbè ma noi adesso ragazzi Andiamo da Sebastian Andiamo a vedere se la sorella finalmente lo perdonerà Secondo me dovrebbe staggiare Azkaban da un bel po' Però Chi sono io per giudicare Visto che Sono andato in giro voce su di me Tutto tranne Le maledizioni senza perdono Va bene così Ecco questo magari è Una cosa che può cozzare Con Quello che Che può essere appunto La lore Che può essere Il mondo magico Però ragazzi Sti cavoli Cioè è bello proprio per questo È sempre un gioco L'unica cosa che forse avrei voluto ancora di più È il quidditch Mannaggia il quidditch Ma sono sicuro che arriverà ragazzi Aspettatevi un DLC Aspettatevi un qualcosa Anzi Se questo video supererà 30.000 mi piace No in passato tanti 30.000 mi piace Però insomma Che ne dite ragazzi Se come video extra Facciamo Voi non so se lo sapete Ma Molto tempo fa Uscì un gioco Non mi ricordo Su che console Era playstation 2 No forse il gamecube Vabbè Sul quidditch Era la coppa del mondo Di quidditch Era una zozzeria Però c'era Dai era divertente Possiamo fare quello Visto che Non ci hanno dato il quidditch Ce lo creiamo noi Dai ci può stare Ci può stare Detto ciò Andiamo da Sebastian Sebastian Ho ricevuto il tuo gufo Che cos'è successo? In Faustus Ha riferito a Dan E ciò che è successo Con lo zio Solomon Lei pensa che dovrei pagare Per le mie azioni Però non vuole denunciarmi Ha detto che il senso di colpa Sarà una punizione sufficiente Mi dispiace tanto Ma sono felice di sapere Che almeno puoi provare A voltare pagina Il fatto è che Credo di aver perso Per sempre mia sorella La mia gemella Non vuole più neanche vedermi Non posso biasimarla E capirei se anche voi Voleste voltarmi le spalle Avevate riposto La vostra fiducia in me E io Vi ho delusi Devo dire Mi è piaciuta la questline Forse in alcuni punti Gestita male Però il tema centrale È bello Cioè che lui che fa di tutto Per riavere la sorella Addirittura Si abbraccia proprio Il lato oscuro Della magia Questo lato oscuro Che lo allontana Poi alla fine Il troppo volere La sorella Alla fine Lo allontana Questo è molto bello Gestito Ripeto Un po' così Perché Capisco volere Infilare così E maledizioni Anza perdono E via dicendo Però poi dopo Sbilanci Totalmente Quella che è la credibilità Cioè Sebastian Oggettivamente Come può essere perdonato Dalla sorella Che gli ha visto Non solo lasciare La vada che davrà No Ma pure quando Ha ucciso l'elfo lì Cioè sono cose un po' sceme Forse Anne Se ne farà una ragione Non voglio essere duro Però Ovviamente perdona Sebastian Quel primo giorno A lezione di difesa Contro le arti oscure Sembra passata Un'eternità Ti ringrazio Non so cosa accadrà Ma sono felice Di averti come amico Sono felice Che tu sia Hogwarts È finita così Semplicemente Con tanti abbracci E baci Beh Sono contento però Dell'evoluzione Che ha avuto Il nostro Sebastian Sallo Che era partito Come bullettino Poi è passato A ragazzo scapestrato Che conosce I segreti I trucchetti Di Di Hogwarts E devo dire Che rispetto Alle altre due Soprattutto a Nati Nati me l'aspettavo di più Però A maggior ragione Serp Verde e Gryffondoro È stata una bella coppia Cioè lui È stato presente E partecipe Soprattutto Per le missioni Principali Perciò Immagino che C'è stato pensato Proprio come un personaggio Principale Poi Ha avuto la sua Backstories Insomma Non viene Non viene Specificato Se la sorella Guarirà mai Quindi no Il fatto che abbiamo Ucciso Rookwood Si porta Lui nella tomba Non lo sapremo mai Allora ragazzi Vi faccio vedere Quello che secondo me È il modo migliore Adesso per livellare Potremmo fare Delle missioni secondarie Potremmo fare Queste due E chissà Se l'avremmo mai fatte Però Siccome in questo video Io voglio cercare Di concludere Quanto meno La storia Devo Salire di livello Quindi arrivare A livello 34 Non mi sarà difficile Perché molto probabilmente Farò De questo Ovvero Andiamo sulla mappa Ce ne andiamo Posti dove possiamo combattere Tipo qua no L'arena Di combattimento Delle arti oscure Ce n'è una molto buona Che è questa qui Questa qui ragazzi È piuttosto veloce Eccomi qua ragazzi Sono tornato Sono qui In un'arena Per cercare di salire Di livello Questo è sicuramente Il metodo più veloce Ora cercherò Di parlare E giocare E fare cose fighe Non so se sarà Possibile Ma ci proverò Soprattutto voglio Sfruttare Questo momento Per Sto a dirvi anche Un po' la mia Sul gioco Perché Una cosa che Mi avete chiesto In tantissimi Anche sui social Ma è che magari Penso del gioco Visto che Comunque ci sono state Anche un po' di polemiche Insomma c'è chi lo valuta Tanto tanto alto Chi invece Lo Non lo so Non lo preferisce Non gli piace Allora Questo ve lo proverò A dire Ovviamente giocando Non è proprio semplice Unica cosa Che magari vi può Aiutare È che Quello che sto facendo Io è il metodo Probabilmente più veloce Per fare punti esperienza Almeno questo È quello che si dice Su youtube Perché ragazzi Vi posso assicurare Che per arrivare Il livello 34 Cioè sto a sudare Tantissimo Insomma La solita difficoltà Però Insomma Il suggerimento Che vi posso dare io E che danno un po' a tutti È di mettere La difficoltà a storia Così I nemici diventano Dei bot a pedali E tu Li puoi ammazzare Tranquillamente Vabbè Nel senso Se potrebbe fa Se potrebbe fa Però non è questo il caso Perché se no Davvero che roba è Allora Vabbè Dicevamo ragazzi Che ne penso io del gioco Ora indipendentemente Da come finirà Cioè Capiamo com'è Sto finale Se credo Io Parere mio personale Hogwarts Legacy È un buon gioco Ce ne sono tanti meglio Ce ne sono anche tantissimi peggio Non si inventa niente È tutto molto derivativo Tutta roba già vista Ok Va bene Ma la grandezza Di questo gioco È proprio L'ambientazione Il mondo Dove Va inserito Sto gioco Che è il mondo Di Harry Potter È il mondo Magico E quello Fa veramente Tantissimo La differenza Ragazzi È quello Che rende Questo Hogwarts Legacy Un successo Clamoroso Perché Già solo Il castello Di Hogwarts Vale tantissimo La pena È un qualcosa Di incredibile È una roba Mai vista Cioè nel senso Mai con questa Fidelità Mai con questa Qualità Cioè È una cosa Veramente Pazzesca È per tutti gli amanti Di quel mondo E Tenete sempre conto Ragazzi Che magari Noi siamo pure Affassionati Ai videogiochi Ma ci saranno anche Tanti Mamma mia Tanta sgrava Sta mossa Ma tantissimi Che invece Sono semplicemente Avvicinati Ai videogiochi Solo perché Sono amanti Di Harry Potter Quindi immaginate Che C'è Tutta una categoria Dei giocatori Ci sono proprio Milioni di giocatori Che non sono Super appassionati Stanno lì a vedere Ah ma questo È un action Open world Ce ne so Mille meglio Perché Non si è inverno Ma che cazzo Me ne frega Posso andare Cioè Nella torre De Grifondoro Posso andare Cioè ci sono Ragazzi Delle chicche Che per un appassionato Valgono tutto La discriminante È proprio il livello Di dettaglio Secondo me E c'è questo Un gioco Fatto con amore Rispetto E rispettando Un tema Appunto Quello che può essere Il mondo maggio Il mondo di Harry Potter Che sta a cuore A tantissime persone E quando un fan Vede una cosa Così fatta bene Così rispettata Così esaltata Dal gioco Va da sé Che diventerà Un grande gioco Acquisisce dei punti in più Rispetto a quello che È un po' Il suo Il suo reale valore No? Io lo paragono molto A un Butto là Che ne so Un Ghost of Tsushima A cui io non gli avrei dato Una lira Sinceramente Comunque Prima si parlava tanto Ah sì No però Sembra Preso qua Qualcosa Assassin's Creed Preso là Ragazzi Il gioco è bello C'è una bella storia Raccontata bene E divertente Il gameplay A posto Poi che Siano robe Non già viste È chiaro O comunque Ritendo scherzando Se va arrivati alla fine Ragazzi Vabbè niente Quindi questa era La mia opinione Sicuramente ci sarà Tanto altro da dire E Vediamo come finisce Però Sì poi ci so comunque Cose che non vanno Secondo me Ci sono troppe No secondarie Troppe Troppi elementi Collezionabili Tipo le cose di Merlino Secondo me non ci stanno C'è troppa roba Ah vedete non sono morti Gli inferi Perché non li ho Cioè non li ammazzi Neanche con la pata che d'avrà Che roba Sti maledetti Devono essere infuocati Vabbè Quindi insomma Avete capito ragazzi Secondo me Se siete appassionati Del mondo di Harry Potter Se il gioco Se il gioco è imperdibile Davvero Se invece siete semplicemente Cercate un gioco così È un gioco chill Cioè Mi piace Sto affan casino Scusate eh Vabbè Non mi ricordo più Che stavo dicendo A livello di storia Io penso pure Che sia stata una buona storia Poi certo Non è ai livelli dei libri Chiaro Chiaro Però perché no Perché non Oddio Un nuovo Corso Legacy Un nuovo Corso Legacy 2 Sarebbe bello Allora ragazzi Eccoci qua Ho ricaricato il salvataggio Proviamo a vedere Che succede Se diamo delle risposte negative Quindi Immaginiamo Che il nostro finale È stato un finale buono Ma che succede Se Decidiamo di tenere Il potere per noi E Non so Davvero Addirittura Utilizzarlo È possibile Vediamo 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 se cambia qualcosa Non riesco assolutamente A crederci Il deposito Giaceva sotto il castello Da non so quanti secoli Pensa a quanto dolore Ha generato Nonché le morti Di Miriam George Del tuo amico Lodgok E di molti altri Miriam riteneva Che questa magia Dimenticata Potesse essere usata A fin di bene Ma ne ignorava I rischi Lei non aveva visto Ciò che i custodi E Isidora Ti hanno mostrato Ora sei tu Custode Del potere Che contiene Che cosa Pensi di farne Eccoci qua Io Ho Deciso Di Tenerlo chiuso Ovviamente E se decidiamo Di aprirlo Ho deciso Di aprire Il deposito Il suo potere Non può continuare A rimanere inattivo Dopo tutto Quello Che hai visto E ciò che è successo A Isidora Ma che sei stupido Cioè Te l'hanno Tutte le proprie Per farti vedere Che non lo devi aprire E tu lo apri lo stesso Ha ragione Questo potere Però Pensateci E se questo potere Potesse effettivamente Aiutare Hen La sorella di Sebastian Perché poi Nel nostro finale Boh È nata così Voglio tutto Il potere per me Isidora Ha sprecato La sua abilità Cercando di salvare Le persone Io non permetterò Agli altri Di decidere Del mio Potere Non dirai Sul serio Tu Fra tutti Dovresti essere Consapevole Del dolore Delle sciagure Che potrebbe causare L'arroganza Si è avuto Quella componente Di Chiamiamola così De moralità No Di cui abbiamo parlato Un sacco Durante Tutta Tutta la storia Cioè sarebbe stato Più interessante Perché vedete Adesso Un po' di tratti Non dico da cattivo Però Sicuramente Un po' di Di malvagità È uscita fuori Da Da Dal signor Mike No Dal signor spettacolo Però Non è coerente Con quello che abbiamo fatto E vissuto Durante tutta la storia Perché noi siamo stati Sempre bravi Vabbè Quello vabbè Dipende come giochi Però anche volendo Giocare In maniera Un po' più malvagia Cioè Avremmo dovuto Semplicemente Cioè Sì Rispondevi male Alle persone Ma niente di più Comunque sto giocando A difficoltà facile Solo per Sbrigarmi È davvero troppo facile Ti dice pure Quando Spendiamo i tasti Ok ci siamo ragazzi Vediamo Se cambia qualcosa Dovrebbe Perché In teoria Adesso decidiamo Di assorbire Il potere Giusto Invece di Contenerlo Guarda L'ho tutto soddisfatto Maic L'ho tutto soddisfatto Oh no 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 Con molta più facilità L'abbiamo preso Non c'è stato bisogno dell'aiuto di Di Fig Grazie Miriam Di te Grazie sì Perché è tutto iniziato da Miriam Quindi Adesso siamo i signori di questo potere Guardalo come gode Come ne gioisce Quindi tutta la Parte quella emozionante di Fig Che muore C'è stato niente Cavolo ragazzi forse è meglio il mio Ti posso dire Questo è il finale cattivo Perde un sacco O meglio ne acquisisce Beh qua non è cambiato nulla C'è il discorso per il professore Cozza un po' considerando Quello che è stato poi L'atteggiamento di Mike Nei suoi confronti Soprattutto quelli finali Cioè abbiamo Completamente Glissato Glissato Non riesco a credere Che Fig sia morto Non lo conoscevo bene Quanto te Però questo potrebbe cambiare È bello che la Weasley Abbia reso onore a Fig In quel modo Non lo dimenticheremo In Faustus ha detto Di aver parlato con En Chissà se accetterà Di rivedermi Ti mando un messaggio Appena avrò notizie E qua Non è cambiato nulla Mi sono andato a informare E c'è la possibilità Di non vedere Sebastian In questo momento Ma credo in Faustus Questo perché Perché noi potremmo Denunciare come detto Sebastian Noi abbiamo scelto Di non tradirlo Ma potremmo anche tradirlo E quindi In quel caso Credo che Sebastian Venga allontanato Da Hogwarts E quindi ci sarà Un dialogo con Faustus Che ci dice Sì guarda Abbiamo fatto il possibile Però Il preside L'ho allontanato Chissà come sarà Girare per Hogwarts Insomma senza Sebastian E via dicendo Ora Ragazzi Sono un po' Così perché Sì E' terminata la storia E però In realtà è cambiato solamente Il fatto che Michael ha assorbito Però a livello Cioè proprio Reale Non è cambiato nulla Non è che assorbendolo Diventiamo più potenti Oppure si sbloccano nuove cose No Quindi niente È semplicemente una cosa estetica Allora questo non cambia Il mio giudizio È più bello però Secondo me Il mio finale Quindi Se ribadisco Il fatto che Al fine Giocato in un modo Giocato in un altro Non cambia niente Se avessimo giocato Da mago oscuro Con tutte le maledizioni Scelte cattive E tutto il resto Mi sarei aspettato Che anche il mondo Intorno a noi Reagisse a Cioè A questo tipo Di comportamento Invece no Anzi Durante il combattimento finale Che vi ho tagliato Ho provato a lanciare Le maledizioni Davanti ai prof Non mi hanno detto niente Quindi insomma Lascia un po' il tempo Che trova Però È così ragazzi È così Oh ragazzi Sono tornato È tardissimo Ma ce l'ho fatta Sono finalmente Giunto A livello Il 34 Non arrivava più Veramente È una cosa assurda Ho dovuto fare Un sacco Di missioni secondarie Perché credo Che abbiano fissato Quella cosa Delle arene Con il level up veloce Vabbè È andata così Dunque ragazzi Adesso abbiamo Il livello 34 Richiesto Devo andare al banchetto Di fine anno Quindi immagino che Eleggeranno la vincitrice La casa vincitrice Ma ragazzi Se non è Grifondoro Se non è Grifondoro Faccio un casino Oddio Potrebbe non essere Grifondoro Però Una cosa possiamo essere sicuri Non può essere Serpeverde Non può essere Serpeverde Perché hanno fatto Veramente Il devasto Cioè Sebastian Ha creato il panico Però attenzione Sebastian Nella mia storia Non è stato Cacciato Voglio andarci vestito Da buon Grifondoro È il momento Se è una cagata Se non Guarda Se è una cagata Di ento pazzo Non ci sono stemmi Per il momento Vediamo se Riusciamo a scrutare Chi è in vantaggio La storia è una noia Ah no Ah gli esami Gufo Giusto Guardate come tutti Stanno cominciando a fare Gli esami Non scopiazzare a mit Non scopiazzare a mit Quello di Ti tira un diffingo E non finisce più Poi su C'è l'ho più lungo Allora lui non si è comportato Alla grande Durante la battaglia Ecco che qui Insegnano Animali L'unicorno Che abbiamo catturato Vi ricordo L'abbiamo fatto in live È stato molto bello Voilà Che è coso Come si chiama Gabby Così Poppy Dobbiamo approfondire Il suo personaggio Lo faremo in live Mi sono lasciato due cose Poppy e Natti Oddio che è il molliccio Guarda Questa è la paura di Natti Ma che figata Che figo Ma quanti riferimenti E easter egg Ci sono Rispetto a Harry Potter Questa Harry Potter È un po' così Ah lui c'aveva paura Di cosa? Non mi ricordo Ho fatto la missione secondaria Sì tipo di un animaletto Ecco tutti gli amici Tutti i personaggi Che abbiamo imparato a conoscere Durante Quest'anno Ad Hogwarts E noi come al solito Arriviamo dopo i fuochi Come ultimi È stato bello ragazzi È stato bello Poi io l'ho vissuto Magari ancora più intensamente Ho fatto secondaria Anche da solo Quest'anno Abbiamo visto i nostri studenti Incarnare il coraggio Di Godric Grifondor Perché chiedi di finire La lealtà Di Tosca Tassolos La saggezza Tipica di Corinna Corvonero È rimasto solo in falso E quindi La capta delle case Di quest'anno Mi perdoni Preside Se posso L'eroismo Di un certo studente Durante l'attacco A Hogwarts Per non parlare Del modo In cui eccelle In tutti i suoi studi Considerato Poiché Appena arrivato C'erano loro È Lecchino Alecchino A mio avviso Direi proprio Che meriti Diciamo Cento punti Per la sua casa Non è d'accordo? Ah Già La ringrazio Professoressa Wismi Direi che abbiamo La casa di Citrice Cerpe verde Ah non lo dicono Perché Run Vabbè Sì Si ma immagino Che quelli Delle altre case Ci vengano A fare L'applauso Urra Urra Ulula Ulula Dice Onai Dai è così Ragazzi Abbiamo vinto Allora Solo per il fatto Che sono dovuto Arrivare A livello 34 È giusto Così Ma no Cento punti Mi ne dono Da cinquecento Dei punti Oh E quindi Termina qui Questo era il reale Finale Di Hogwarts Legacy O meglio Finale Ma non fine Perché come detto C'è ancora tanto da fare Vi do ancora appuntamento A giovedì Pomeriggio Dalle 17 Alle 19 Siamo in live Sul canale di Playstation Attenzione Quindi Non mancate Non mancate Perché Vedremo come termina La storia di Natti E di Poppy Però è stato Un grandissimo Gioco Devo dire ragazzi Mi sono veramente Tanto tanto divertito Mi sono divertito A giocarlo Insieme a voi È chiaro È un buon gioco Sicuramente Ve ne avrò parlato Perché Ho registrato In diversi punti Non mi ricordo Veramente È stata Un'avventura Clamorosa Mi sono divertito Tantissimo Grazie a tutti Io vi do appuntamenti I prossimi video Vi ricordo che quest'anno Ci sarà anche Spider-Man Se ci siete stati Grazie a tutti Quelli dei World True Un saluto a tutti Da me e Shosha Alla prossima serie Ciao ragazzi Ciao Ciao